guardiamo il gioco di carte illuminati queste carte sono del 1995 chiaro? sono del 1995 vediamo in questa carta del 1995 che la torre le torri gemelle vengono colpite, le famose torri gemelle dopo sei anni precisi, sei anni 2001 l'evento si manifesta nella realtà queste due immagini sembrano uguali, è incredibile sembrano uguali poi vediamo sempre questa carta del gioco illuminati 1995 il pentagono colpito, infatti dopo il pentagono nella realtà è stato colpito poi vediamo la carta che parla della terza guerra mondiale io infatti che cosa avevo detto? che stanno preparando questa terza guerra mondiale per instaurare il grande governo mondiale che sarà costruito sulle macerie del vecchio mondo e guarda qui la carta messia la carta messia, io vi ho detto che stanno preparando la manifestazione dell'anticristo come messia e qui c'è la carta messia poi vediamo qui una chiesa aspetta dopo, dopo vediamo qua una chiesa che è simbolo di religione e ci sono dei dischi volanti infatti io vi ho detto che prima dell'instaurazione della religione mondiale si vedranno proprio questi dischi volanti nel progetto Bluebeam proprio perché l'unico punto in comune tra atei tra le varie culture tra le varie religioni tra le varie nazioni sono queste astronavi questi esseri universali è l'unico punto in comune quindi l'anticristo giocherà questa ultima carta delle astronavi la battaglia fra angeli cattivi alieni cattivi, alieni buoni per attirare a sé tutte le religioni tutte le culture gli atei e tutta l'umanità per poi dominare tutta l'umanità questa è la sua carta e quindi voi mi direte quindi avremo un anticristo al dieno possiamo dire che avremo un anticristo al dieno certo che sì certo che sì Satana è imitatore di Dio Gesù che cosa aveva detto io non sono di questo mondo giusto? io non sono di questo mondo e quindi avremo un anticristo alieno per i teologi ortodossi la figura più idonea dell'anticristo è quella di un anticristo alieno poi vediamo le notifiche nella puntata numero 10 di Allarme Elohim è una puntata che trovate sulla piattaforma numero 6 di Morris Sun e c'è un video su youtube ma non l'ho più trovato comunque la trovate sulla piattaforma numero 6 di Morris Sun nella puntata numero 10 di Allarme Elohim si vede un capo alieno che è un demonio si presenta sul pianeta Terra e porta una nuova epoca dell'oro dove non esiste più la povertà e dove risolve tutti i problemi quindi si manifesta come salvatore e chi è il demonio che si presenterà come salvatore? è l'anticristo l'ho detto prima si presenta come salvatore quindi avremo proprio un anticristo alieno un anticristo alieno c'è dell'altro da capire però Giovanni 17 io prego per loro non prego per il mondo ma per quelli che tu mi hai dato padre io non ti prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno essi non sono del mondo come io non sono del mondo io non prego soltanto per questi ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola Anguera apparizioni Brasile 2005 cari figli avanti con coraggio voi siete nel mondo ma non siete del mondo anche la Madonna ce lo dice Cavarzere apparizioni Venezia 2004 svegliatevi unitevi come i soldati armatevi e partite nel cuore di Gesù vostro fratello unitevi fate l'esercito dell'amore l'esercito del cuore tutti i cuori uniti 1 Corinzi San Paolo il signore scelse un pugno di uomini per instaurare il suo regno nel mondo importante anche questo Oliveto Citra apparizioni Salerno 2021 io Michele generale dell'esercito divino sono stato inviato a sostenere Gesù nel Gezzemani noi angeli sosteniamo gli uomini di Dio coloro che chiedono la forza al Padre verranno sempre aiutati fino all'ultimo respiro sulla terra quindi Gesù aveva detto ai suoi voi siete nel mondo ma non siete del mondo anche la Madonna ha detto alle persone che seguono i messaggi mariani lo abbiamo appena sentito voi siete nel mondo ma non siete del mondo quindi le persone che seguivano Gesù e che seguono la Madonna sono persone nel mondo ma non sono del mondo eppure sono tutte persone che hanno due piedi due mani due braccia due gambe quindi non sono del mondo perché il loro spirito viene dal regno di Dio che abbraccia l'universo e sono qui in questo mondo non per purificarsi non soltanto per purificarsi ma come ha detto San Paolo sono persone qui in questo mondo per combattere affinché venga instaurato il regno di Dio sulla terra con la collaborazione sono tutte persone comunque disadattate un po' disadattate semplici non gli piace questo mondo perché è un mondo governato dal demonio però sono sempre persone semplici umili ma non nel loro ambiente quindi sono persone disadattate e ripeto non sono qui per purificarsi così a caso ma come ha detto San Paolo sono qui per combattere affinché venga instaurato il regno di Dio sulla terra con l'aiuto dei veri angeli di Dio che vengono dall'universo con questi carri di fuoco e con queste nuvole che danno protezione anche agli eletti quindi Gesù instaurerà il suo regno sulla terra con la collaborazione degli angeli di Dio che vengono dall'universo e di persone che sono presenti in questo mondo Satana è imitatore di Dio quindi anche l'anticristo sta preparando il suo regno sulla terra con la collaborazione di questi finti angeli alieni buoni e la collaborazione di esseri umani presenti qui sulla terra infatti si sono riuniti poco tempo fa al World Economic Forum questo è successo proprio poco tempo fa era presente il solito Tony Blair era presente il solito Schwab ed era presente anche Tanya Fajon ministro degli esteri della Slovenia e cosa ha parlato del governo mondiale in arrivo ok e c'era anche John Kerry l'inviato di Biden e ha fatto guarda qual'articolo lo dice ha fatto un commento uno sfogo bizzarro e ha detto le forze extraterrestri cioè le extraterrestri hanno scelto hanno radunato delle persone le hanno portate al World Economic Forum per salvare il pianeta per salvare il pianeta e queste forze extraterrestri vogliono salvare il pianeta dal clima dei cambiamenti climatici e vogliono così ci ha detto portarci in una nuova economia dove ci saranno bassissime emissioni di carbonio quindi attenzione John Kerry ha detto che ci sono degli extraterrestri che vogliono salvare il pianeta dai cambiamenti climatici e vogliono salvare la nostra economia e infatti guardate questa carta sempre del gioco illuminati si vede un extraterrestre che dà dei soldi ai capi delle nazioni quindi possiamo anche dire che l'estraterrestre vuole salvare la nostra economia e questa è sempre una carta del 95 e anche questa volta questo gioco di illuminati ha notificato quello che sta succedendo adesso è importante questo gioco quindi attenzione John Kerry ha detto che gli extraterrestri hanno scelto un gruppo di persone le hanno radunate quindi ci sono delle persone presenti qui in questo mondo che stanno collaborando con gli extraterrestri e ha detto li hanno radunati al World Economic Forum per salvare il pianeta l'anticristo l'anticristo si manifesterà come il salvatore del pianeta quindi gli alieni buoni extraterrestri che ha nominato John Kerry saranno i finti alieni buoni che presenteranno l'anticristo e le persone che si sono radunate al World Economic Forum sono gli eletti che contribuiscono a preparare la manifestazione dell'anticristo quindi l'anticristo per preparare il suo regno su questo mondo sta preparando il suo regno mondiale su questo mondo con la collaborazione di alieni buoni finti alieni buoni e persone presenti qui sulla terra Satana è imitatore di Dio anche Gesù sta preparando il regno il suo regno sulla terra con la collaborazione degli angeli di Dio quali veri con la collaborazione degli eletti persone presenti qui in questo mondo è tutto così Carbonia 2014 i potenti della terra obbediscono a Satana ma la loro fine è segnata dalla loro scelta obbediscono sempre a Satana non ci aiutano non ce ne sono Luz de Maria 2023 state venendo chiamati a vivere una spiritualità conforme a questi tempi di modernismo da coloro che stanno orchestrando la piattaforma dell'anticristo ci sono proprio persone qui presenti in questo mondo che preparano la manifestazione dell'anticristo i potenti obbediscono a Satana quindi e non solo quelli americani anche quelli russi cinesi paesi arabi Europa tutti tutti quanti quindi quando i potenti fuoriescono con delle frasi del genere un po' bizzarre come ha detto quell'articolo non dobbiamo dire che sono dei mattacchioni perché tutti gli stanno dando dei mattacchioni sono dei mattacchioni stanno notificando un piano lineare e preciso e noi dobbiamo ascoltare quello che dicono per capire sempre di più adesso faccio magari avete un po' di confusione quindi faccio un riassunto di quello che ho detto con questa immagine quindi quando vedrete cari amici questo video su youtube fate una foto questa slide fate una foto questa slide che è un po' il riassunto di quello che vi ho detto cioè i potenti notificano che ci sono gli alieni buoni e gli alieni cattivi i potenti stanno preparando il progetto blue beam ologrammi a forma di astronave e astronavi vere create nelle basi segrete in questa battaglia saranno coinvolti anche i nostri eserciti anche i nostri eserciti e in questa battaglia si scontreranno anche dei finti alieni angeli buoni che potrebbero essere dei cloni umani creati nelle basi segrete contro e si scontreranno contro finti alieni negativi che potrebbero essere dei cloni umanoidi creati nelle basi segrete non dite subito che sto impazzendo che sto esagerando fantascienza approfondiremo questo argomento approfondiremo questo argomento vinceranno vinceranno questa battaglia i finti alieni angeli buoni nel progetto blue beam e con la collaborazione degli illuminati che sono gli eletti dell'anticristo presenteranno il messia anticristo e il suo regno governo mondiale satana è imitatore di dio nella fase finale i veri angeli di dio che non sono cloni umani vengono veramente dall'universo i veri angeli di dio combatteranno contro gli angeli di satana li sconfiggeranno e gli angeli di dio con la collaborazione degli eletti persone presenti su questo mondo semplici che mettono in pratica gli insegnamenti di dio con la loro collaborazione prepareranno l'avvenuta del messia gesù cristo e il suo regno sulla terra fate la foto quando siete a casa di questa slide gesù messia satana imitatore di dio gesù messia anticristo finto messia gesù ha i suoi eletti presenti su questo mondo anche l'anticristo ha i suoi eletti presenti in questo mondo gli illuminati gesù ha i suoi angeli veri angeli che vengono dall'universo sconfiggeranno gli angeli di satana e con la collaborazione degli eletti prepareranno il regno di gesù sulla terra anche l'anticristo ha i suoi finti alieni buoni che sconfiggeranno i finti alieni cattivi e con la collaborazione degli eletti illuminati prepareranno l'instaurazione del regno del demonio sulla terra il governo mondiale l'anima l'anima Grazie a tutti.